la porta numero 3 troverete ciò che cercate ecco guardate il pisampasso alle mie scarpe da ballo ai piedi però manca ancora qualcosa che cos'è che manca ma manca ancora qualcosa che cosa manca ma manca ancora qualcosa cos'è che manca ancora bisogno degli alberi e della frutta dove posso trovarlo è davvero complicato però manca qualcosa che cos'è che manca signora che che vuole ascoltare la musica mentre rapina la manca state immobili ragnetti non vi muovete ehi orsi polari fateci passare per favore come facciamo a passare se gli orsi polari non ci fanno camminare benvenuti presso gli orsi polari che rimbalzano questi orsi polari in lungo e in largo amano saltare sopra dei trampoli molleggianti lo vogliono fare rimbalzano in alto rimbalzano in basso per passare in fretta li dovete superare da una parte e dall'altra così da poter avanzare ma come faremo a superarli da una parte e dall'altra davvero uno strano modo per poter avanzare andando davanti alla banca per ascoltare la partita grazie signora gatta grazie mille dunque per trovare l'orso barri devo cercare un posto con i pesci gli alberi che sia molto freddo dove posso trovarlo è davvero complicato ma manca ancora qualcosa cos'è che manca ancora incredibile hanno risolto il puzzle è una pastinata incredibile hanno risolto il puzzle è un cavalluccio marino le hanno risolto il puzzle il divertimento ravelsburger gioca anche a sfida bene così bene corpo di mille balene hanno risolto il puzzle è un pesce palla wow mondo sarà facile e divertente vedete amici si sposti per favore signora stella perché non ci lascia passare ma manca ancora qualcosa che cosa è troppo scivoloso e sono proprio davanti a noi ma manca manca vedrai e ci possiamo esercitare un negozio di animali wow guardate questi jacky dal buffo aspetto amici miei scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui è troppo scivoloso e sono proprio davanti a noi ma manca manca ancora qualcosa cos'è che manca ancora è troppo scivoloso e sono proprio davanti a noi spostati per favore babbuina perché questa babbuina non vuole farci passare per inciso non preoccupatevi per quel lupo affamato sei aggrappata a un arbusto e non morirà di fame perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno